Non chiamatelo solo social network. Facebook ha annunciato il prossimo lancio della sua moneta virtuale Libra, il cui ingresso nel mercato dovrebbe avvenire nel 2020. La nuova criptovaluta è sostenuta da oltre 10 grandi società e fondi di investimento, tra cui Visa, Mastercard, PayPal e Uber. Ciascuna delle società investirà circa 10 milioni di dollari in un consorzio che governerà la criptovaluta. La moneta virtuale sarà ancorata a un paniere di valute emesse dai governi per evitare le forti oscillazioni subite da altre criptovalute a partire dal bitcoin, la più conosciuta. Il nuovo sistema di pagamento, a cui Facebook lavora da oltre un anno, dovrebbe permettere agli utenti di scambiarsi denaro e di acquistare prodotti sul social network e su internet.